musica 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 ciao amo seconda parte di questa puntata di assaggi di anna e chanel gli assaggi di a maria succhia con lilla più bella del mondo e chanel musica musica allora in questa bellissima puntata assaggieremo altri tre prodotti seconda puntata l'ho detto seconda puntata in realtà è perchè quando in editing ci sbagliamo e pubblichiamo video diversi e quelle 200 o 300 persone ce l'hanno scritto e ripetutamente il numero di volte ma questo video è già uscito che coccine che siete non ruppete neanche un po' lo scratigno allora cosa assaggiamo in questa puntata allora in questa puntata assaggeremo queste rip van è morto amo rip poi assaggeremo dal giappone queste caramelle haichengo no sono caramelle al gusto kiwi si molto bene e poi queste cannucce deliziate però come le assaggiamo no amo queste cannucce ce le mettiamo dentro la torca e poi le sfiliamo che non ci sarà più niente perchè umidendole questo lo fai tu ah perchè la tua è secca vabbè tu in culo comunque sono cannucce molto molto carine con all'interno scusa ma volevo dire cose più interessanti di quelle che dici tu sei scusa da matti allora cominciamo con queste caramelle dai cominciamo con queste caramelle comunque veramente c'ho dei ricci assolutamente definiti e scolpitissimi si ok cucciola muoviti perchè comunque è un attimo che vuoi da cartomante tua cucciola 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 e sto qua ma che cazzo è da cartomante la nostra amica trascione ciao pier ciao pierina ma vedo dei puntini neri o sbaglio qua bisogna usare il trezzino che ciucci e puntini ma dove cazzo guarda che bella la caramella con i brufoli e i puntini e l'ho sempre sognata che schifo ce la fai in cucciola? effettivamente non ce la posso fare eh ce l'abbiamo fatta molto bene infiliamola in bocca aspetta io la devo ancora scartare qui ecco è tre è due è uno si è pere di kiwi? no perché sa di se che ho degli occhi non sa di ananas why? c'ha ragione quando c'ha ragione mi sarà daieneata questa aniqua bella anibela no amo mi cade la forfora che si e non ci sono dei prodotti che sa per la forfora ah un insetto? ah怎麼辦 mi scolla le atturazioni che ho fatto a 12 anni ok vero? allora analia mezza mezza aperto e voto 2,50 io.. anche tu l'hai sputata amo vero che è collosissima? educating Non approva il voto 1 Ha una consistenza orrenda Non è un chewing gum Ma è come se lo fosse Però poi si appiccica il dente E ti fa Esatto Cioè è terribile Quindi anche no Assolutamente anche no E invece adesso Vediamo Ah ma in tutte le puntate Dobbiamo vedere Quei cazzo di cape Certo Al limite fai vedere La cappella No il cape Oddio Fai schifo tanto quanto Ah ma sai cos'è È come mettere Una ciliegina Sopra uno stronzo Rimane comunque Rimane comunque Uno stronzo È l'invidia che parla Sarà anche l'invidia Amo però Assaggiamo Ste cazzo di cannucci Amo Molto bene Allora che colore La vuoi te? Io rosa Cioè rossa Allora io la prendo blu Perché quelle blu Promettono sempre Si possono comunque mangiare Pensavo fossero Eh infatti Pensavo fossero di plastica Fischiano No Però sai che se qualcuno Mi soffia dentro il culo Fischio Mi è capitato No non ci credo È talmente grosso Rimbomba Infatti sembra Quando arrivano le navi Però fa quel rumore lì Allora la mia sa di mirtillino Che micissimo Un po' spruissimo Sempre duro Sarà che le tocchiamo noi Che siamo espertissime Però Non me ne mangerei ancora Un altro morso Quindi facciamo che Anche no Siamo severissime E visto Cioè Manica strettissima Andagli a mezzo e mezzo Approved Voto Due e mezzo Shani Sono solo due e mezzo Secondo me non so contare Più di due e mezzo Shani non approved Voto Uno e mezzo Cucola Severamente La tirchietude Non mi piace Assaggiamo queste Sai che amo Una volta Ho schiacciato dei coglioni A un tizio Che si chiamava Abdul Erano così E sono diventati così Cazzo è lui Quindi se tu Questo in realtà Lo metti in posizione normale Quindi circolare Aveva dei coglioni piccolissimi Sì amo Perché glielo ho prosciugate Allora Dividiamo i coglioni di Abdul Ciao Abdul Rip Ecco perché si chiama Rip Perché è morto Abdul Ma basta Sto gusto di miele Ma non mi piace Sto di miele Il miele è il male Sono del 15-18 Ma a prescindere da questo Stani a provved Voto Tre e mezzo Il miele è il miale Quindi L'ho fa Mezza e mezza Proved Voto tre Anzi che due e mezzo Perché sono mangiata Invisabili però C'è sto gusto di miele Non ti piace il miele È un po' come l'alofina Cioè il miele Serve solo per rubricare Il buco del culo L'unico tritudine che ha L'alofina quindi Se lo fa fare L'hai detto tu Ok Ok L'hai detto tu No lo costruiamo a me Grazie mille per aver visto Questa Questa puntata Ma la fotocopertina Non l'abbiamo fatta No Recopriamo tipo now Oh mamma mia È molto bella E qui Una novitù Che mamma mia Abbiamo la stessa originalitudine Degli altri due stronzi Sì Bene questo è tutto Ciao dalla vostra Anna Liona E ciao dalla vostra Shani Dove è il capezzolino Ciao dalla vostra